ragazzi è pronto venite arriviamo buongiorno Gabri buongiorno Mirillo Mirillo ma che facciai? ho fatto serata ieri sera Gabri ho svappato tutta la notte in cos'hai svappato? ho svappato cookie non ho capito cazzo è tardissimo Gabri vado devo andare al lavoro ciao Mirillo Mirillo la box buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono Gabri io Birillo oggi andremo a recensione il nostro nuovo liquido vai Mirillo esponicelo il liquido si chiama cookie della Deoro un 70-30 dovrebbe essere biscotto ora andiamo a fare la prova di troppo e a tirare qualche concessione su questo liquido abbiamo sbagliato in passato altri liquidi della Deoro sono abbastanza buoni si si sente molto la resa aromatica diciamo di questi liquidi molto concentrati io andrò a svappare con la Noisy Cricket 2 con il Wesp Nano io con l'hammer e il Goon da 24 colciabi il vapore ne fa mi piace è buono ti esplode il cacao in bocca cacao 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 dolce cacao dolce come il biscotto è buono però a me piace si stiamo svappando al solito la resa aromatica buonissimo anche con il Wesp Nano rende bene che voto gli dai a questo liquido dirillo io ci do un set si anche un set molto fedele e buono ma il biscotto si sente molto il cacao si va il biscotto buono 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 vanigliato un pochino dolce ok la taverna dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo il sito su facebook e su instagram se ci volete seguire noi siamo contenti è tutto un bacio un bacio